Il ruolo del comitente è stato molto importante perché sostanzialmente ci ha permesso di fare determinate scelte dettate soprattutto dall'economia del progetto, dal budget del progetto, essendo case popolari o comunque a basso costo il budget era fondamentale, il concetto è sempre rimasto lo stesso, abbiamo cambiato i materiali, abbiamo cambiato la struttura molte volte, abbiamo sostanzialmente risparmiato su una serie di elementi architettonici, ma non sul concept che quindi è rimasto sempre lo stesso e che ha permesso di arrivare a questo risultato. Quindi la committenza è stata lungimirante nella parte di progetto, ma ci ha frenato molto durante le fasi di esecutivizzazione, anche se rispetto ad altre cooperative, rispetto ad altri progetti di social housing ci dicono che hanno speso molto di più, per cui questi premi sono un riconoscimento importante anche per riconoscere a loro questa libertà che ci hanno dato. Grazie.